L'annunciato sciopero degli autotrasportatori per lunedì 14 marzo ha fatto scattare una vera e propria psicosi da carburante. Già nella giornata di ieri si era registrato un maggiore afflusso agli impianti ma da questa mattina gli automobilisti in coda e i distributori della città di Salerno hanno fatto registrare lunghe code. Il timore di restare a secco e non poter utilizzare qualsiasi tipo di veicolo per gli spostamenti vince sull'aumento dei prezzi del carburante che anche questa mattina ha fatto girare ancora i numerini in avanti sia per il selbito che per il self. Il diesel e la benzina sono venduti immediatamente a oltre 2 euro e 50 centesimi e questo viene percepito come uno degli effetti a distanza più immediati della guerra in corso tra Russia ed Ucraina. Se in tanti preferiscono scendere dall'auto e servirsi da soli per tentare un piccolo risparmio non manca chi si presenta ai distributori di benzina per riempire anche tanniche da tenere a riserva. Pronto per fare il pieno? Il pieno no perché è arrivata a 2 euro e 20 la benzina e cerchiamo di come dire adeguarci a questi cambiamenti velocissimi. Speriamo che fanno qualcosa perché così non si può andare avanti. Anche i cereali sono arrivati a un verso esorbitante. Adesso ci stiamo incominciando come dice Draghi a prepararci. Incominciamo a prepararci. Il timore è che da lunedì con lo sciopero degli autotrasportatori c'è il timore anche che non arrivi carburante. Eh sì quindi cerchiamo di mantenere un equilibrio almeno per andare a lavorare. Quindi niente pieno e pronto con 20 euro? 20 euro e se la fanno salire ancora ma c'è 5 euro ci sono per andare e tornare da lavoro. Ha fatto il pieno? Assolutamente no. Per i prezzi che sono aumentati insomma sperando che abbassino un po' in questi giorni. No. È un timore insomma che da lunedì con lo sciopero dei trasportatori ci possa essere anche qualche difficoltà per l'approvvigionamento di carburanti? Sì qualche timore sicuramente ci sta e poi ci regoleremo di conseguenza insomma magari inizieremo a camminare a piedi che fa anche bene. Anche se secondo me è tutta una fobia che abbiamo noi italiani perché comunque io penso che tutto continuerà ad essere così regolare sia per quanto riguarda la benzina sia per quanto riguarda gli alimenti di prima necessità perché infatti anche ieri nei supermercati vedevo un po' la corsa all'approvvigionamento per la pasta, farina, zucchero però penso che siano tutti falsi segnali. Certo c'è l'aumento sì bisogna fare qualcosa per far rientrare il tutto perché mi rendo conto che gli stipendi a fine mese sono sempre gli stessi. Sì così parlano che forse per lunedì forse non arrivano più il trasporto di benzina Un pieno di oggi non risolve comunque? È un pieno almeno per la settimana penso che possono circolare sperando poi si vedrà. Sicuramente i costi sono lievitati tantissimo la gente è arrabbiata. Un pochino perché comunque si hanno ragione però comunque la gente si deve comunque muovere. Ha fatto il pieno questa mattina? Lo faccio più o meno tutti i giorni però questa mattina non ci riesco. In che senso? Non mi dà la cosa, non mi dà la connessione. Un po' tutti preoccupati se da lunedì scatta questo sciopero? Non più di tanto andiamo a piedi sarà la volta buona che incominciamo a cacciare le palle in Italia. Sì è chiaro che siamo all'inizio quindi i cittadini ancora si devono rendere conto dei costi dell'aumento della benzina. Quando tutto verrà al regime ci sarà sicuramente una contrazione del mercato, una contrazione di questa ripresa che aspettavamo dopo il Covid. Noi come medici siamo impegnati a fare sia le vaccinazioni sia costruire un'emergenza territoriale. Però poi è arrivata la guerra e può darsi che ci siano anche delle speculazioni su queste cose però certamente inciderà negativamente sulla ripresa. La maggior parte dei benzinai afferma di avere ancora scorte da offrire alla clientela ma tutto sarà legato allo stop previsto per lunedì dagli autotrasportatori. Uno sciopero che avrà ripercussioni non solo sul carburante ma anche su altri beni. Anche nei supermercati da questa mattina la gente sta facendo scorta di beni. Da stamattina alle 8 è stato un via vai continuo siamo quasi a mezzogiorno e penso che in questo momento dovrebbe scendere, si sono fatti prendere dalla psicosi che finiva la benzina. Effettivamente c'è un problema che potrebbero fare un blocco però purtroppo sono tre giorni che va avanti così. Generalmente voi vi approvvigionate tutti i giorni? Tutti i giorni, tutti i giorni ci sarà. Il resto i serbatoi sono scesi abbastanza c'è da pensare. Tanto, è rimasto poco. Lunedì dovrebbero consegnare regolarmente almeno che non ci sarà il blocco degli autotrasportatori. Allora questo qua ovviamente ha messo in crisi tutto il sistema ma tutte le bombe di benzina sono sotto stress questi due o tre giorni. Prevalentemente le persone fanno il pieno oppure si limitano alla solita cifra che avrebbero speso anche in altri giorni? Normalmente fanno il pieno. Di solito chi faceva 20 euro adesso ne fa 40 però normalmente stanno facendo tutto il pieno. Quindi è probabile che per oggi finisca. Domani difficilmente se ne riparla lunedì se tutto va bene.